Comprare casa in questo momento può sembrare conveniente, però bisogna stare attenti. Il prezzo negli ultimi anni è continuato a scendere. Secondo l'Agenzia delle Entrate tra il 2016 e il 2017 il valore medio al metro quadro nelle Marche è sceso ancora del 3% e però le compravendite non crescono. Di questo parliamo stamane col presidente della FIAIP Marche, Emanuele Fiori. Buongiorno, questa è una delle associazioni di categoria che raccoglie gli operatori delle agenzie immobiliari. Qual è la mappa, secondo lei, del mercato nella nostra regione? La mappa del mercato nella nostra regione non va vista da nord a sud come tendenzialmente uno può pensare, ma va vista da est a ovest, cioè dal mare verso le montagne, quindi un mercato più fiorente con un costo al metro quadro più alto nella zona del mare e andando verso le montagne abbiamo chiaramente un abbassamento sia dei richieste che del valore del mercato. Poi dobbiamo muoverci per capoluoghi, il capoluogo con un costo un po' più alto risulta a Pesaro, poi viene a seguire Ancona, Ascoli e Macerate e Fermo che fanno il fanalino di coda. Purtroppo poi nel 2016, come tutti sappiamo, abbiamo avuto l'offesa del terremoto e quindi in alcune zone, la parte bassa e la parte della Scolana, del Maceratese, e in alcune parti della zona dell'Anconetano, il mercato immobiliare è crollato. Addirittura, posso portare un esempio, di colleghi che hanno dovuto chiudere l'agenzia e spostarsi verso la costa per continuare a fare la nostra professione. Il mercato immobiliare in questo momento vede dei prezzi anche molto bassi, appunto la svalutazione e altre componenti. Secondo lei però, quando si decide di comprare una casa, cosa è necessario guardare? Oggi, visto che il mercato è un po' particolare, occorre guardare fondamentalmente la veridicità urbanistica catastale, che è importante dal punto di vista immobiliare e dal punto di vista anche notarile, che può portare all'annullamento del rogito notarile se non si ha la regolarità urbanistica. Poi bisogna fare la distinzione fondamentale se uno compra e acquista per la prima casa oppure come forma di investimento. Oggi più che mai è importante comprare perché appunto i costi del valore dei mutui sono molto bassi e il costo del mercato, come sappiamo appena detto, è basso. Quindi a livello investimento è molto renditizio. Ci sono alcuni dati che riportano appunto che il mercato azionistico è sempre negativo negli ultimi anni e quello del valore immobiliare è sempre in crescita. Abbiamo dei punti intorno al 6% per quanto riguarda le locazioni e i negozi come renditività rispetto al meno 7-10% se non vorrei sbagliare, il numero preciso per quanto riguarda la renditività dei dividenti della borsa. Quindi diciamo che comprare casa ancora può essere considerato un investimento buono a medio o lungo termine. Secondo lei, in base anche agli sgravi fiscali che ci sono, questa è l'ultima domanda che posso farle, bisogna valutare anche la classe energetica dell'immobile o magari gli immobili di nuova generazione, soprattutto nelle aree del sisma. Sì, è assolutamente importante guardare soprattutto nella zona del sisma che non ci sia soltanto gli sgravi fiscali, ma ci siano anche delle strutture importanti per la costruzione stessa che adesso non abbiamo il tempo per approfondire. Comunque gli sgravi fiscali hanno aiutato anche il mercato immobiliare a riprendere un pochettino. Grazie.